Buonasera. Allora se siete pronti incominciamo con la comunicazione dei dati, allora partiamo dal dato, abbiamo quattro guariti è un dato positivo, sono della Liguria e quindi questo è il dato che voglio dare all'inizio, poi dare il bilancio per quanto riguarda le persone contagiate. Attualmente abbiamo 1.049 persone contagiate, 29 decessi e in totale 50 guarigioni. Di questi 1.049 persone contagiate il 52% dei casi è in isolamento domiciliare, si tratta di persone che non hanno sintomi o hanno dei sintomi talmente lievi da non richiedere alcun tipo di ricovero. Le persone ricoverate con sintomi sono 401 e quindi il 38% totale delle persone che sono colpite dal coronavirus e il 10% 105 persone sono in terapia intensiva. registriamo 8 decessi complessivi nella giornata di persone che erano positive al coronavirus, si tratta di persone adulte, 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Per quanto riguarda poi un dato che voglio dare quello del numero dei tamponi siamo arrivati a oltre 18.500 tamponi effettuati e il totale della distribuzione è il numero nelle tre regioni più importante delle persone colpite e contagiate dal virus sono 552 in totale nella Lombardia pari al 52% del totale, 189 in Veneto pari al 18% del totale, 213 in Emilia Romagna pari al 20% del totale. Questi sono i dati relativi a persone contagiate. Prosegue l'attività da parte di riscontro da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che conferma 478 casi positivi su 478 analisi condotte. Voglio anche ricordare che complessivamente la macchina del sistema di protezione civile viene coinvolto al di là del personale sanitario, dei medici, del personale sanitario in genere che sta gestendo con un grande impegno e che voglio ringraziare anche oltre 1.800 uomini tra uomini delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei volontari. Di questi 1.800 uomini più di 800 sono i nostri volontari. Ci sono oltre 200 mezzi, oltre 220 mezzi, sono impiegati in aggiunte a quelli che sono i mezzi disponibili in ordinario. Qui accanto a me c'è poi il Professore Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che vi potrà dare anche le ultime notizie e potrà rispondere sulle vostre domande in merito all'andamento dell'epidemia. Quello che voglio dire è che dal punto di vista operativo stiamo proseguendo in particolar modo per la ricerca delle mascherine. Sapete che da più parti è stata avanzata l'esigenza di disporre di mascherine. Noi le stiamo ricercando così come i colleghi delle regioni. Oggi abbiamo tra l'altro anche una disposizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dà anche delle modalità di utilizzo delle mascherine, in particolar modo per le mascherine chirurgiche che ci fa essere particolarmente confidenti per poter fornire gli ospedali, il personale e le persone affette di quelle mascherine che possono servire in questi casi. Stiamo acquisendo mascherine, abbiamo anche distribuito oggi mascherine ai nosocomi della Lombardia. Si tratta delle quantità che noi abbiamo recuperato, così delle quantità che hanno recuperato gli altri ospedali e in particolar modo che hanno recuperato la regione Lombardia e confidiamo nei prossimi giorni di poter incrementare la quantità di dispositivi di protezione individuali disponibili. Per quanto riguarda le indicazioni di servizio che possiamo dare sono quelle di in particolar modo continuare a non intasare i numeri di emergenza, di contattare telefonicamente per avere una prima anamsi da parte dei medici di famiglia, quindi contattare i medici di famiglia telefonicamente e poi chiamare i numeri di emergenza in caso di necessità. Oggi c'è stata, come sapete, in questa sede una importante riunione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri interessati e i Presidenti di Regioni perché nei prossimi giorni, a partire da lunedì, scadranno le ordinanze messe a doppia firma dal Ministro della Salute e dai Presidenti di Regioni interessati. si è fatto un grande lavoro, si sta ancora lavorando da un lato sotto il profilo tecnico scientifico dall'altro sotto il profilo giuridico ed amministrativo per confezionare il provvedimento con il quale si andrà a dare disposizioni in ordine alle attività, l'operatività delle scuole, la ripresa delle attività nelle regioni in cui ci sono state delle restrizioni. E' ancora presto per darvi i dettagli, quindi non chiedetemi anticipazioni perché le anticipazioni non ci sono nel senso che si sta lavorando e quindi fin quando non sono definitivi i dati è bene non comunicarli. però questo è un lavoro importante che si aggiunge al lavoro che è stato fatto anche ieri sera dal Consiglio dei Ministri con l'adozione di una serie di disposizioni compreso anche la sospensione dei mutui nella zona rossa che è stata formalizzata con un'ordinanza a mia firma questa mattina e quindi in qualche modo siamo venuti incontro alle esigenze di chi vive in quei territori, di chi ha difficoltà delle attività economiche e produttive. Ultima cosa sapete è quella della informazione, i canali ufficiali sono quelli che conoscete. mi piace ricordare e qui ringraziare il Ministro Speranza e la struttura del Ministero della Salute perché hanno fatto questo importante accordo con Google e con YouTube per consentire di mettere in evidenza la informazione certificata, l'informazione attendibile rispetto a quelle informazioni che si trovano in rete. Quindi queste sono le informazioni che vi dovevamo dare, che abbiamo per questa sera e diamo corso alle vostre domande. Prego. Sì, buonasera. Avevo una domanda per il Professor Busaferro. L'indicazione sulla chiusura delle scuole, quindi la data del 7 di marzo è arrivata direttamente da voi e questo denota che siamo ancora in una fase di contagio molto alta? Allora, le indicazioni nascono dal comitato tecnico scientifico che si esprime su quesiti che pone il Ministro, il Direttore della Protezione Civile o altre autorità. Su questo argomento, su circa la nostra situazione, abbiamo detto anche ieri che l'effetto delle misure che sono state adottate la scorsa settimana è un effetto che ci attendiamo non possa avvenire prima di almeno 10 giorni. Ci vogliono circa 13-14 giorni per capire l'effetto e il tempo esattamente dato dal tempo di incubazione. Quindi i casi che noi oggi individuiamo e che segnaliamo sono casi che molto verosimilmente nella stragrande maggioranza hanno contratto l'infezione prima che adottassimo queste misure. Quindi è chiaro che bisogna capire l'andamento della situazione prima di fare delle scelte o adottare delle misure che si basino sulla comprensione del fenomeno. So che ne abbiamo già parlato abbondantemente nei giorni scorsi ma chi è che può fare il tampone? Chi ha diritto a chiedere un tampone? Perché sento ancora molte persone che dicono io sono venuto in contatto con un sospetto positivo, vorrei fare il tampone. Lo possono fare queste persone il tampone o devono aspettare di essere sintomatiche? E nel frattempo possono contagiare però? Qual è il criterio? Perché vediamo ogni giorno, cioè la linea guida che avete dato è chiara che è quella che bisogna essere sia sintomatici sia venuti in contatto con positivi. Però ogni giorno vediamo aumentare i casi degli asintomatici. E quindi evidentemente i tamponi vengono fatti anche agli asintomatici. Beh, allora io credo che noi dobbiamo partire dalle evidenze scientifiche che noi abbiamo. Una persona che è stata in contatto stretto e prolungato con una persona positiva, sia sintomatica, soprattutto sintomatica, ma anche asintomatica, è una persona che deve porsi in isolamento per 14 giorni. Perché sappiamo che l'infezione può verificarsi nell'arco dei 14 giorni. Il tampone a questa persona ha un valore limitato, nel senso che il tampone dà il valore istantaneo della giornata in cui fa il tampone. Ma se lei lo fa il giorno 1 non è detto che il giorno 5 sia positivo. Quindi la misura più importante di prevenzione è che la persona che ha contatto stretto e prolungato si ponga in una condizione di non trasmettere ad altri. Questa è la base più importante di ogni misura. La seconda partita invece è importante laddove soprattutto siamo in stagione influenzale e quindi anche se la curva influenzale comincia fortunatamente a decrescere, ma in questa stagione è chiaro che una sintomatologia molto simile, quantomeno nelle fasi iniziali, quando è polmonite è già diversificata, ma nelle fasi iniziali necessita di una diagnosi differenziale. Il tampone in questo caso quindi sintomatico diventa importante perché l'evoluzione clinica ma anche le modalità di gestione della persona positiva sintomatica sono diverse dalla gestione di una persona con infezione delle alte vie respiratorie sostenuta da altri comuni agenti microbici che circolano ancora in questo momento. Ed è il motivo per cui trovate molti tamponi ma vedete che è solo una minore, larghissima, soltanto il 5%, poi sostanza è positivo. Tutti gli altri probabilmente hanno qualche cosa ma hanno sostenuto da influenza o da altri tipi di virus che circolano in questa stagione. Quindi il razionale però per la sicurezza della popolazione non è tampone sì tampone no, la razionale è e la protezione è se hai avuto contatto stretto e prolungato ti devi mettere in una condizione di evitare di poterlo trasmettere ad altri. Altre domande? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.